Oggi avevamo chiesto che il Presidente Fontana venisse in aula per riferire su quanto è accaduto per quanto riguarda la zona rossa che in Lombardia è stata attivata senza che ce ne fossero a quanto pare le esigenze. Ebbene, il Presidente Fontana è venuto, è stato evasivo e anzi ha continuato ad attaccare l'Istituto Superiore di Sanità. Quindi come minoranze abbiamo deciso in segno di protesta prima di bloccare la seduta poi di abbandonare l'aula. Quindi non ho potuto fare l'intervento che avrei voluto fare di fronte al Presidente Fontana. Sfrutto i social per riproporverlo perché credo che sia necessario lanciare qualche messaggio. Anzitutto avrei detto che io non sono nessuno e quello che sono è perché posso cogliere qualcosa e imparare qualcosa dagli altri. Quindi l'umiltà è il primo elemento fondamentale per poter fare davvero politica ed è anche il primo elemento fondamentale per chi vuole essere nelle istituzioni in maniera trasparente, libera e a servizio dei cittadini. E per questo a me piace sempre in Consiglio regionale, ormai l'avrete capito, esordire con delle citazioni. La citazione che avrei fatto e che faccio ora è da questo libro Gianrico Calofiglio, della gentilezza e del coraggio. Un libro che mi ha sorpreso e mi ha davvero fatto bene. Ebbene, a pagina 100, Carofiglio scrive, un criterio valido per valutare lo spessore e l'intelligenza di un politico, ma a ben vedere di chiunque, consiste nel porgli qualche semplice domanda sugli errori che ha commesso. Che cosa ha fatto per rimediarvi? Come se ne è accorto? È stato capace di ammetterli tempestivamente? E continua, Carofiglio. Se risponde con frasi generiche, senza specificare in cosa, come e perché ha sbagliato o peggio, se rivendica la presunta validità del suo operato con frasi del tipo rifarei tutto? Ebbene, possiamo trarre la conclusione che si tratta di un politico mediocre. E continuo la citazione di Carofiglio con queste parole. Tutti noi prendiamo decisioni giuste e decisioni sbagliate. La vera differenza è tra coloro che sono pronti e veloci a riconoscere quelle sbagliate e a correggerle, e coloro che cercano di occultarle a se stessi e agli altri, cercando di convincere se stessi e gli altri di avere ragione anche quando hanno torto. Potrei fermarmi qui, dopo aver sentito l'intervento del Presidente Fontana, ma soprattutto le cose che ha detto in queste folli giornate di attacco a testa bassa, alle istituzioni che dovrebbero essere super partes, come l'Istituto Superiore di Sanità. Potrei fermarmi qui, dicevo, ma purtroppo devo andare avanti, perché nel tentativo di difendere se stesso, comunque è diventato davvero cronico ormai il Presidente Fontana, con i problemi che con la cronicità, come ahimè lo sappiamo anche in chiave sanitaria, finiscono per ingigantirsi. E cosa accade? Accade che mette in difficoltà tutti, mette in difficoltà soprattutto i tecnici, non solo quelli a Roma, ma i suoi tecnici, che sono piegati ad esigenze di parte, ad esigenze spesso di propaganda, e che lavorano male, lavorano con grande tensione, e devono giustificare spesso anche l'ingiustificabile. Tutto questo porta a delle strutture di Regione Lombardia che da mesi sono stressate, sono stressate e anche travolte da questa necessità di essere sempre e comunque a disposizione di chi preferisce fare polemica con le istituzioni che entrare nel merito dei problemi. Ebbene, tutto questo è nell'ottica di un sistematico tentativo di parlare di complotti, di qualcuno che vorrebbe punire la Lombardia, così ha detto il Presidente Fontana parlando di zona rossa. Non è accettabile, è una modificazione della realtà che diventa una realtà parallela, che si costruisce dal proprio punto di vista, a proprio uso e consumo, con una narrazione, magari con messaggi anche a pagamento da parte dell'istituzione lombarda su giornali, su quotidiani, come abbiamo visto anche quest'oggi in Lombardia, cosa che francamente su un tema di questo genere era assolutamente da evitare. Ebbene, dove possiamo andare in questo modo? Da nessuna parte. I cittadini si aspettano chiarezza e si aspettano soprattutto rispetto della realtà e delle istituzioni. Questo non l'abbiamo visto in questi giorni in Lombardia e al Presidente Fontana cosa dobbiamo dire allora di fronte a cittadini che ci guardano attoniti? Noi siamo stati costretti a elevare il livello dello scontro e dell'attenzione per richiamare tutti a quelle che sono le responsabilità di questa Giunta. Chiediamo delle scuse ai Lombardi da parte del Presidente Fontana e chiediamo numeri, numeri chiari riguardo questa pandemia. Non ne abbiamo mai avuti. Ebbene, se non sarà in grado di fare le scuse da un lato e non avrà il coraggio di fare le scuse, come titola anche il libro di Caro Figlio, della gentilezza e del coraggio, ebbene, il Presidente Fontana è meglio che faccia una bella riflessione sul fatto che sia opportuno meno che continui a guidare questa Regione.